Beautiful anticipazioni. Steffi scopre con orrore che Sheila è viva. Tutto inizia durante questa settimana quando nel proprio studio, Finn legge su un giornale la notizia della morte di Sheila. Proprio in quel frangente, il detective si fa avanti e varca la soglia dell'ufficio di Finn. Quest'ultimo esprime gratitudine per la presenza del detective. Sanchez mostra un'espressione confusa a causa del messaggio ricevuto e domanda il motivo della chiamata da parte di Finn. Finn comunica al detective di essere stato disturbato da qualcosa poi domanda, lo hai con te? Sanchez risponde affermativamente, portando con sé tutto ciò che riguarda il caso di Sheila. Il medico legale ha richiesto che l'oggetto fosse restituito ai parenti più prossimi o distrutto poi ricerca nella propria borsa e estrae il sacchetto contenente il dito del piede di Sheila. Poiché sei il figlio di Sheila, questo ti appartiene ora, gli comunica. Nel frattempo, Sheila cerca di catturare l'attenzione di Deacon proponendogli una partita a strip poker, ma egli rifiuta dicendo che il tempo a sua disposizione è ormai scaduto. Sheila ribatte sostenendo che il tempo sta per esaurirsi per tutti loro, per questo motivo è importante godersi la vita finché possono. Deacon si lamenta della situazione difficile causata dalla presenza di una fuggitiva ricercata dalla polizia e le avverte che rischia l'arresto se continua a comportarsi come se potesse sfuggire. Sottolinea che questa vicenda si concluderà solo in un modo, con lei dietro le sbarre di una cella. In ospedale, il detective consiglia a Finn di contattare il guardiano dello zoo per ottenere ulteriori informazioni su quanto accaduto. Dopo essersi stretti la mano, Sanchez esce dall'ufficio e Steffi entra chiedendo a Finn la ragione della presenza del detective, Finn mostra la borsa delle prove. Steffi subbalza. Cosa stai facendo con la luce di Sheila? Finn risponde. Spero di ottenere alcune risposte. Steffi concorda sul fatto che ci siano ancora domande irrisolte sulla sua morte. Finn osserva che è troppo sospetto il fatto che lei sia stata attaccata e sbranata da un orso. Sembra tutto troppo pulito a occhio nudo. Steffi si subbalza. Oh mio Dio! Stai insinuando che Sheila non sia morta? Finn afferma credo che sia viva. Finn sottolinea che se Sheila fosse stata davvero uccisa da un orso, ci sarebbero stati più resti visibili. Decide di esaminare la situazione poiché non sembra il risultato di un attacco animale. Steffi domanda. Credi sul serio che Sheila si sia tagliata un dito del piede? Finn ricorda che sua madre gli ha sempre detto che era capace di fare qualsiasi cosa inoltre e sapeva che loro non avrebbe mai smesso di cercarla. Quindi fingere la propria morte poteva essere l'unico modo per liberarsi di loro. Nel frattempo, Sheila si lamenta del dolore che ha sopportato tagliandosi un dito del piede per evitare di finire in prigione. Ribadisce che non si arrenderà. Deacon sbatte giù la sua bottiglia di birra e le comunica che è arrivata al termine la sua fuga. Non ci sono più scappatoie. Lei cerca di discutere. Ma lui urla dicendo, non c'è più via d'uscita, è giunto il momento. In ospedale, Finn parla al telefono con un collega, il quale concorda sul fatto che il dito del piede non è stato perso in seguito a un attacco animale. Poi invita Steffi a esaminare il dito al microscopio. La Carter ha reciso il dito del piede e ha cercato di farlo sembrare come se fosse stato un attacco di un orso, esclama Steffi. Finn commenta che ciò dimostra soltanto la sua malvagità. Troverò Sheila e lei andrà in prigione per il resto della sua vita. A casa di Dickon, Sheila si prepara all'uscire, indossando la maschera protesica e coprendo i capelli con un berretto da parrucca. Dickon le domanda ai suoi piani e le fa presente che il travestimento non sarà sufficiente per salvarla. Hai esaurito le tue possibilità. Sheila reagisce con rabbia dicendo mai. Pochi giorni dopo, Steffi e Finn si trovano al giardino. Finn si mostra sorpreso che Steffi abbia voluto andarci dopo l'incidente nel vicolo. Steffi racconta che è determinata a non lasciare che Sheila le tolga ciò che le appartiene, ma capiscono l'importanza di proteggere la loro famiglia. Riflettono su quanto scoperto e Finn condivide che non potrà mai dimenticare il momento in cui sua madre ha sparato alla donna che ama più di ogni altra al mondo. Steffi esprime la sua ammirazione per Finn che ha smascherato Sheila per aver finto la sua morte. Si interroga sulle intenzioni nascoste di Sheila e Finn le assicura che verrà presa dalla polizia. Entrambe ricordano con affetto il loro tempo insieme a Monaco attraverso dei flashback. Finn ribadisce che nulla avrebbe potuto separarli. Sheila invece si maschera nuovamente da bionda. Dickon non è presente e lei riflette sull'idea di andare a cercarlo. Contemporaneamente Finn conclude che nulla avrebbe potuto separarlo da lei. Confermano i loro sentimenti d'amore. Steffi piangendo lo bacia prima di andarsi dal tavolo per telefonare a sua madre. Vicino ai bagni. Steffi sta conversando al telefono con sua madre quando si imbatte in Sheila camuffata. Steffi si scusa per aver rovesciato il drink e mette giù il telefono per concentrarsi sull'incontro. Nota poi la mancanza del dito del piede della misteriosa donna bionda. Una volta realizzato chi ha di fronte, Steffi terrorizzata alza lo sguardo lentamente negli occhi della donna e esclama, Sheila. Steffi è chiaramente sconvolta nel trovarsi di fronte alla Carter. All'esterno del ristorante, Finn nota Deacon dietro al bancone e si avvicina per chiedergli come sta. Deacon sembra distratto e domanda a Finn se crede veramente che Sheila sia viva e in giro da qualche parte. Finn conferma, ma pone la domanda cruciale. Dove si trova? Poi chiede a Deacon se è sicuro di non averla vista. Deacon assicura a Finn di non avere idea di dove potrebbe trovarsi la Carter. Nel frattempo, vicino ai bagni la donna riesce a fuggire mentre Steffi viene travolta dai ricordi dello sparo e rimane paralizzata dal terribile flashback di quel giorno. Al banco del bar, Deacon suggerisce a Finn che Sheila potrebbe trovarsi dall'altra parte del paese o addirittura all'estero. Finn si preoccupa per Steffi e decide di andare a cercarla. Rimasto solo, Deacon soffre per aver detto una menzogna. Poco dopo, Finn trova Steffi nei pressi dei servizi igienici e lei gli rivela di aver avvistato Sheila. Con un tono ansioso, accenna che devono darle la caccia immediatamente senza esitare. Finn segue sua moglie. Poco dopo, Deacon ascolta mentre Steffi dice a Finn che è necessario chiamare la polizia. Successivamente, Steffi rivela a Deacon di aver appena avvistato Sheila vicino ai bagni, spiegando di averla riconosciuta per la mancanza del dito del piede destro. Poi racconta che Sheila era fuggita e Finn è convinto che probabilmente fosse stata lei, il che spiega la fuga improvvisa. Deacon sembra preoccupato mentre Steffi si addolora dicendo Mi sono appena trovata faccia a faccia con la carte. Finn contatta le autorità telefonicamente e riferisce a Baker di occupare dell'indagine. Deacon spiega che la polizia sta cercando una donna deceduta dubita che Sheila tornerà lì, ma Steffi sottolinea che ha un buon travestimento. Finn si chiede se la madre fosse lì per vedere Deacon, mentre Steffi avverte che non può essere una coincidenza e Finn propone un modo per verificare la verità. Devono visionare le registrazioni di sicurezza. Deacon si offre di dare un'occhiata sopra mentre si allontana. Invia un segnale di saluto a Sheila. Al bar, Steffi afferma con determinazione a Finn che devono assicurare Sheila dietro le sbarre dove merita di essere. Nel frattempo Sheila è arrivata a casa e si rimprovera per la propria ingenuità nel mettere i sandali. Piano piano si libera dall'abito e si contempla di fronte allo specchio. Dopo un momento di riflessione, all'improvviso sorride e si lascia andare ad una risata. Pettinandosi i capelli, Sheila ripensa al suo incontro con Steffi mentre riceve una chiamata da Deacon. Lui urla chiedendo come abbia potuto permettere a Steffi di vederla. Sheila afferma di aver gestito la situazione magnificamente fino a quando Steffi, rovesciando il drink addosso a lei, ha cominciato a pulirla come una bambina. Deacon avvisa che la polizia è in arrivo. Sheila lo incita a negare tutto lui e gli chiede cosa farà se verrà presa. La Carter giura che non la prenderanno. Non preoccuparti vado via. Quando dico le chiede dove sta andando, lei riattacca. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere i prossimi video, iscriviti al canale.